Bella vittoria dell'Aquila Rugby Club con conquista della vetta della classifica nella quinta giornata dei pool promozione di A. All'Anfranchi di Parma i neroverdi superano l'Accademia Nazionale Ivan Francescato, squadra delle giovani promesse del rugby nostrano. Il match termina 19-20 con un punteggio che racconta bene quanto la partita sia stata equilibrata fino alla fine. A sbloccare il tabellino è il centro dell'Accademia Alessandro Forcucci che va in meta per i suoi. Risponde al ventiquattresimo Giorgio Erbolini, uno dei metamani neroverdi che schiaccia oltre i pali. Francesco Cozzi, in giornata di grazia con il suo 4 su 4 al piede, pareggia il 7 a 7. Nel primo tempo la mischia dell'Aquila si impone ed è proprio grazie ad una maula che scaturisce il fallo che porta al sorpasso poco prima dell'intervallo con Cozzi dal dischetto. Si torna in campo e dopo 9 minuti Francesco Giorgini realizza la seconda meta neroverde con gli ospiti che vanno per la prima volta sopra il break. Una situazione che dura 11 minuti perché al sessantesimo testa riporta sotto i federali, Biondelli trasforma e si va sul 14 a 17. A 5 minuti dal termine la svolta con Cozzi che centra un preziosissimo piazzato. C'è spazio per una meta al settantottesimo di Michelangelo Biondelli. Lo stesso tre quarti di Scuola Ferrarese fallisce però la trasformazione che avrebbe garantito la vittoria ai padroni di casa. Con la concomitante sconfitta dei Medici nello scontro diretto a Recco, l'Aquila conquista la vetta del girone 1 a quota 18 punti, appaiata assieme ai Toscani. Domenica 26 marzo sfida tra le capoliste e i fattori dove arriveranno proprio i Medici e in occasione del match sarà indetta la giornata neroverde. Una partita molto dura, giocata fino all'ultimo, abbiamo incontrato una squadra molto preparata, lo sapevamo e siamo stati bravi a portarla a casa, una partita difficile. Devo dire la verità, abbiamo dominato la prima parte della gara, dovevamo chiudere forse un po' prima, ce li siamo portati un po' troppo in là e loro sono usciti fuori alla fine con una meta e con il fatto che hanno sbagliato il calcio che ci ha permesso di portare a casa questi quattro punti preziosi. Siamo contenti perché questo è un terreno difficile per tutti, ci ha perso Recco 15 giorni fa, quindi vuol dire che abbiamo in teoria quattro punti avanti agli altri.